Allora, come sempre un saluto a chi guarderà questi video, il video di oggi è una spiegazione di macroeconomia tratta dal famoso manuale molto utilizzato in varie facoltà, il manuale del professor Blanchard. Allora, a questo punto andiamo a studiare e analizzare il fenomeno economico del consolidamento fiscale e vediamo quali sono le differenze fra il breve periodo e il medio periodo. Immaginiamo in primis che l'economia si trovi inizialmente in presenza del suo livello potenziale. Che cosa significa dire che si trova in presenza del suo livello potenziale? Che il livello del prodotto che andiamo a prendere in considerazione, che indichiamo con la lettera Y, coincide esattamente con il livello del reddito naturale. A questo punto che cosa succede? Nonostante l'economia si trovi al suo livello potenziale, che possiamo anche chiamare naturale, il governo invece si trova in una situazione di disavanzo. Quando abbiamo un disavanzo? Mi piace sempre porre le domande, come esattamente nei momenti in cui a lezione aiuto i vari studenti. Si ha un disavanzo giustamente nel momento in cui le uscite sono maggiori delle entrate. Quindi questo governo, come direbbe qualcuno, è stato un governo un po' spendacione, ha sostenuto delle uscite che sono maggiori delle entrate, maggiore spesa pubblica rispetto alle entrate rappresentate dalla tassazione e ora si ritrova a dover rimettere a posto i conti. Quindi cosa succede? Quali sono le strategie di politica economica e money policy maker? È molto semplice andare ad affermare che in una situazione di questo tipo, cosa può fare il governo? Può andare a ricorrere a una politica fiscale restrittiva, che si realizza attraverso un aumento delle tasse. E allora che cosa succede? Usiamo il classico modello ISLM che già conosciamo. Come possiamo andare a vedere, quindi grazie all'intersezione fra le corbe, possiamo andare a osservare che il livello del prodotto che abbiamo, ricorda che con la lettera Y possiamo parlare sia di prodotto sia di reddito, andiamo a osservare che il livello di Y coincide esattamente con quello naturale. A questo punto però interviene il governo, effettuando una politica fiscale restrittiva. L'effetto all'interno del grafico di una politica fiscale restrittiva è quello di andare a spostare la curva IS verso sinistra. Spostandosi la curva, come possiamo vedere, abbiamo un nuovo livello del reddito, che chiameremo Y' che è minore di YN. Ora però, cosa vogliamo fare? Vogliamo andare a osservare quali sono gli effetti di breve e gli effetti di medio periodo. In un'ottica di breve periodo raggiungiamo il punto 2, dove il livello del prodotto è più basso rispetto a quello naturale. E l'inflazione che cosa fa? L'inflazione diminuisce. Ovviamente, per poter vedere le dinamiche inflazionistiche, abbiamo bisogno del grafico, dove, che è quello che riportiamo di sotto, dove possiamo andare a osservare quella che è la variazione del tasso di inflazione e ovviamente sulla stella scisa andiamo a misurare i livelli del reddito prodotto. Allora, a questo punto, che cosa possiamo vedere? Il punto 1 del grafico superiore, quello del modello ISLM, coincide quindi con un punto che possiamo andare a vedere nel grafico di sotto, dove in presenza del livello del reddito naturale, la variazione del tasso di inflazione è esattamente nulla, ovvero è pari a 0. Poi ovviamente che cosa succede? Nel momento in cui il livello del prodotto diminuisce, possiamo andare ad osservare che la variazione del tasso di inflazione si trova in presenza di valori negativi. Che significa questo? Significa semplicemente che l'inflazione sta diminuendo. A questo punto che cosa succede? Dato che il livello della produzione è diminuito e l'inflazione è in diminuzione, allora a questo punto chi può intervenire? Può intervenire la banca centrale. E come può intervenire la banca centrale? Può ricorrere ad una politica monetaria espansiva che è in grado di fornire uno stimolo al sistema economico. Quindi che cosa succede? Interviene la banca centrale. Quindi graficamente che cosa accadrà? Nel grafico del modello ISLM osserveremo che la curva LM si sposta parallelamente verso il basso. Per quale motivo? Perché il tasso di interesse reale di polisi diminuisce. Il fatto che il tasso di interesse reale di polisi diminuisca, che cosa fa? Stimola gli investimenti. Quindi possiamo proprio vedere che camminiamo lungo la nuova curva IS dal punto 2 al punto 3. Il livello del prodotto, grazie allo stimolo, che cosa è successo? Converge di nuovo verso il livello naturale. Vediamo invece che cosa succede alla variazione del tasso di inflazione. Avevamo detto che ci troviamo in presenza del punto 2 e ovviamente l'inflazione sta diminuendo. A questo punto però, grazie alla politica monetaria espansiva che è di stimolo all'economia, possiamo andare ad osservare che l'inflazione tenderà a questo punto a crescere. tenderà quindi ad aumentare fino a tornare di nuovo al livello in cui la variazione del tasso di inflazione è esattamente pari a zero. E questo poiché l'economia torna di nuovo al livello del prodotto naturale. Grazie all'esempio di prima abbiamo appena osservato un intero processo di consolidamento fiscale e convergenza verso l'equilibrio. Spero che questo piccolo video ti sia stato utile. Un saluto e buono studio da Lib.